vadano molto vicine o superino questo 15 e 150 la grazia della campionessa europea quarta in qualifica con 14 e 4 Zucara Carpiato di entrata due e mezzo più salta avanti con mezzo ancora sedio rapidamente in avanti uno e mezzo più uno doppio Carpiato di chiusura bello, bellissimo fantastico questo sentizio